Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questa volta sarò da solo, sarà un video abbastanza breve e voglio portarvi di nuovo a Milano a vedere una mostra molto particolare, multisensoriale, che però durerà solamente alcuni mesi quindi se volete andare a vederla affrettatevi a prendere i biglietti e andare di persona ed è tutta dedicata a fantasmi e spiriti del Giappone. Andiamo! Prima di iniziare il video vorrei presentarvi questo piccolo yokai. È un Kodama, uno spiritello del bosco. Riuscite a dirmi quante volte comparirà all'interno del video? Fatecelo sapere nei commenti. Ah, i tre che sono comparsi prima sul logo rientrano nel conteggio. Buona caccia! La mostra è allestita nel padiglione espositivo del Tenoa, nel quartiere dei Navigli quindi facilmente raggiungibile scendendo a Porta Genova dalla linea verde della metro. Sono all'entrata del padiglione. Prima di entrare vorrei avvisare che non farò vedere tutte le sale per non togliervi lo stimolo di venire a vederla di persona. Vi farò vedere solo le principali, le storie che mi hanno particolarmente colpito. Entriamo! Prima di entrare nella mostra vi avrete accolti da un workshop molto particolare tutto dedicato alla mostra, all'esposizione e agli eventi in corso. Presenta anche la zona ristoro. Anche se avete preso i biglietti online dovete comunque passare per la biglietteria a raccoltare su i vostri spiegata per entrare. Attraversando questo ponte rosso verrete catapultati nel mondo dei morti accolti dal tenebroso paesaggio invernale dedicato al primo dei tantissimi racconti che si snodano tra le diverse sale. In alcune istanze troverete personaggi travestiti da yokai che sono le percure del fulcrore giapponese che vi racconteranno un po' le storie che sono raccontate da Lafkabino Burn poi tradotte attraverso delle illustrazioni da Benjamin Lacombe a quale la mostra è dedicata. Uno dei racconti parla del ragazzo che dipingeva gatti cosa che gli ha salvato la vita. Mentre dormiva una notte in un tempio abitato da un enorme ratto folletto i gatti che aveva dipinto su delle tele hanno magicamente preso vita uccidendo la bestia per tornare poi ad essere semplici disegni con le bocche sporcate di rosso sangue. La mia preferita parla del Jiu Roku Sakura uno stupendo ciliegio che sboccia solo il sedicesimo giorno del primo mese del calendario lunare non per vita sua ma per vita di un uomo grazie infatti a un samurai che si è sacrificato facendo Arakiri per poterlo salvare cedendo la propria arte. L'ultima storia parla di Urash Mataro pescatore che per aver rimesso in mare una tartaruga riceve una proposta di matrimonio dalla figlia del re drago del mare alla quale accetta. Settendosi in colpa per non aver avvisato i suoi genitori della sua partenza per l'isola dove l'estate non finisce mai convince la sua sposa a farlo tornare per un breve periodo. La moglie gli consegna una piccola scatolina facendosi promettere però di non aprirla per nulla al mondo. Rashna l'aprirà. Nel padiglione attraverserete incredibili scenografie camminerete nella foresta dei nuque cubi noterete sott'acqua tre gambi di enorme ninfe scappando dalle grinfie del Kappa e non avete idea di quanti fantasmi vi accompagneranno in questa fantastica visita quante bozze e quanti disegni anche interattivi potrete ammirare. Ah, e dimenticavo che in giro per la mostra si nascondono un sacco di yokai riuscirete a trovarli tutti. Allora la mostra è accessibile da settembre 2022 fino a gennaio 2023 gli orari sono la prima entrata dalle 11 fino all'ultima alle 8 di sera con turni di un quarto d'ora il costo dell'entrata è 16 euro 14 per i giovani e nulla quindi come al solito vi ricordiamo di seguirci su Instagram di iscrivervi al nostro canale YouTube e di guardare tutti i nostri video di condividerli con chi volete ci vediamo alla prossima! Grazie!